Ben tornati con le notizie di video news. Ancora una missione operativa per l'aeronautica militare, che lo scorso weekend ha contribuito con i propri velivoli e il proprio personale all'evacuazione sanitaria e umanitaria per trasportare persone bisognose di assistenza provenienti da Gaza, organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione all'Unità di Crisi della Farnesina. Un'attività svolta su indicazione del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale. Si tratta del terzo volo di aeree militari da trasporto tattico C-130J della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, impiegati per questa tipologia di missione dopo quelli del 29 gennaio e del 9 febbraio. Sono decollati dal Cairo 45 passeggeri, 22 persone bisognose di cure, di cui 14 bambini e 23 accompagnatori, tra cui un medico e un'infermiera dell'Istituto Gaslini di Genova. I passeggeri palestinesi, alcuni accolti dalla Croce Rossa all'aeroporto di Roma Ciampino ed altri presi in carico una volta sbarcati all'aeroporto di Pisa, sono stati ricoverati negli ospedali individuati dal Ministero della Salute. Alla missione hanno preso parte anche medici e infermieri dell'aeronautica militare, pronti a coordinare la movimentazione e assistere i passeggeri bisognosi di curi. in virtù dell'alta professionalità posseduta e delle esclusive specifiche competenze in ambito di medicina del volo e di potenziali problematiche legate al trasporto di ammalati anche in gravi condizioni. Celebrazioni per i 25 anni dalla Costituzione del Comando della Squadra Aerea, del Comando Logistico e del Comando Aeronautica Militare di Roma. Il nostro servizio. Si è svolta mercoledì scorso al Palazzo dell'Aeronautica la cerimonia per celebrare il 25esimo anniversario della Costituzione del Comando della Squadra Aerea, del Comando Logistico e del Comando Aeronautica Militare di Roma. L'evento è stato preseduto dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, alla presenza dei comandanti dei tre enti, il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva e il Generale di Squadra Aerea Gian Domenico Taricco, oltre ad una rappresentanza del personale dei tre comandi. La cerimonia ha voluto sottolineare la trasformazione epocale seguita alla Costituzione degli alti comandi, un'evoluzione organizzativa che è andata di pari passo con la sempre maggiore complessità degli impegni e degli scenari operativi, in particolare quelli fuori dai confini nazionali. Una trasformazione che ha supportato un percorso di costante evoluzione tecnologica con l'ingresso di nuovi sistemi d'arma e l'espansione del dominio aerospaziale in ambiti di rinnovato interesse strategico per la sicurezza e gli interessi nazionali, quali lo spazio e la Cyber Security Defense. Il comando della squadra aerea è nato con il fine di addestrare, predisporre ed approntare forze di elevata qualità e spiccate abilità, innovando continuamente e integrando a livello interforse, interagenzia e multinazionale la migliore capacità operativa esprimibile. Proiettare ed impiegare in modo agile, adattivo ed efficace il potere aerospaziale in operazioni per realizzare la mission dell'aeronautica militare nel servire il Paese e la collettività. Quest'anno devo dire che grazie all'affidabilità dei mezzi che lo Stato ci ha messo a disposizione e alla grandissima professionalità del nostro personale che continua a fare miracoli, riesce a fare veramente miracoli in tutte le attività a cui si presta, siamo impegnati devo dire veramente su tanti fronti. Inizieremo già ad aprile con la Red Flag che ci porterà in Alaska, un'esercitazione di componente, quindi di forze aeree. Passeremo poi a un'esercitazione insieme al Comando Operativo delle Forze Speciali in Ghana e in Costa d'Avorio con i nostri elicotteri, all'estremo oriente, al sud, all'Australia, per l'esercitazione Peach Black dove non solo utilizzeremo i nostri velivoli da combattimento ma utilizzeremo anche tutti i nostri velivoli di supporto a partire dai C-130 ai velivoli CAEV, ai velivoli 767 per rifornimenti in volo. Dopodiché ci sposteremo in Giappone e anche lì faremo attività congiunta con i nostri amici giapponesi. La nostra pattuglia acrobatica effettuerà una lunga tournée negli Stati Uniti e in Canada in occasione del centesimo anniversario della Royal Canadian Air Force e per portare il saluto dell'Italia e il Made in Italy in tutto il continente nordamericano. Oltre agli impegni addestrativi e operativi il comando della squadra aerea sarà interessato anche da una riorganizzazione logistica. Saremo interessati anche a uno spostamento logistico, il comando della squadra aerea per la parte di comando, prettamente comando, insieme a un suo comando intermedio, il comando delle forze di mobilità e supporto che attualmente è su Centocelle, si trasferirà a Piazza Novelli, un nostro palazzo storico che è a Milano, in centro a Milano, dove il nostro obiettivo è quello di effettuare un trasferimento che permetta di mantenere tutte queste attività al massimo livello come stiamo ora facendo e di non flettere minimamente la performance che l'aeronautica militare può raggiungere grazie al nostro impegno. Il comando logistico nato per garantire tempestivo supporto alle capacità operative dell'aeronautica militare è un'articolazione che assicura l'efficienza e l'efficacia dei sistemi d'arma e dell'armamento, delle reti di comunicazione e dei sistemi cibernetici, delle infrastrutture, dei supporti operativi, dei materiali e degli equipaggiamenti, dei beni e servizi, della medicina aerospaziale e del lavoro, della sperimentazione e del supporto alla ricerca e sviluppo dei poligoni per l'addestramento avanzato. Il comando logistico oggi celebra 25 anni di attività dalla sua fondazione nel lontano ormai 99. In quell'anno fu creato anche il comando della squadra aerea e si dette vita a un'organizzazione funzionale della Forza Armata. Sono stati 25 anni di progresso tecnologico a tutti i livelli e in tutti i settori e di pari passo l'accrescimento delle capacità del nostro personale che ha dovuto per così dire tenere testa ai sistemi d'arma sempre più evoluti con la professionalità che lo ha sempre contraddistinto. Quindi guardiamo a questi 25 anni con enorme soddisfazione. Ovviamente è stato il lavoro di chi mi ha preceduto in questa posizione di comando ma di tutto il personale che si è avvicendato nelle file del comando logistico. Adesso siamo alla vigilia di un importante passaggio di testimone perché abbiamo le vecchie generazioni che si avvicinano alla pensione e i giovani che stanno entrando in Forza Armata che dovranno raccogliere le redini di questo lavoro fatto e sono certo che le competenze maturate dal comando logistico saranno messe ancora più a frutto dai giovani e ci proietteranno verso un futuro fatto di tecnologia, di professionalità e di sviluppo delle capacità di sostegno logistico a vantaggio di tutta la Forza Armata. Il Comando Aeronautica Militare di Roma garantisce le funzioni territoriali e di collegamento con gli enti e le amministrazioni presenti nell'area della capitale. Assolve le funzioni di presidio aeronautico anche attraverso l'impiego della banda musicale e della compagnia d'onore, assicura e gestisce il patrimonio storico di Forza Armata e le capacità sportive di livello olimpico attraverso il centro storiografico e sportivo di Vigna di Valle. L'Aeronautica Militare 25 anni fa ha fatto una scelta molto importante, ha completamente riorganizzato la sua struttura passando da una struttura territoriale a una struttura funzionale. Quando la struttura è funzionale la regola per il funzionamento è che ci sia una piena interazione e integrazione delle varie componenti di specialità e quindi questo è stato il significato più importante della ristrutturazione. Dopo 25 anni possiamo fare un bilancio dicendo che è stato sicuramente un successo, che ha funzionato, che ha migliorato l'operatività della Forza Armata e in questa ristrutturazione il commerce svolge una funzione molto importante su Roma, sul territorio, continuando a svolgere funzioni logistiche a favore degli enti più importanti aeronautica che sono il Palazzo Aeronautica, qui alle mie spalle, l'aeroporto di Cento Celle, oltre il museo, oltre altre realtà. E in più è l'Aeronautica sul territorio, quindi sul territorio di Roma con tutte le attività di alta rappresentanza che vengono svolte a favore degli organi costituzionali nei quali l'Aeronautica con le Forze Armate Sorelle è ogni giorno presente e lavora costantemente, quindi rappresenta l'Italia nei momenti più importanti quando un Presidente di una Repubblica, un sovrano, viene in Italia e viene ricevuto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio. La cerimonia si è conclusa con le parole del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica che nel ringraziare il personale che opera con capacità e determinazione ha rimarcato l'importanza di una trasformazione funzionale e territoriale che ha fatto di questi comandi i pilastri della Forza Armata. Videonews termina qui. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon weekend!